ragazze qui si batte la fiacca direi di no allora sto ritoccando queste sedie ikea che sono da esterno poi sono ritoccando questo cantone vi ricordate che vi ho detto che volevo ritoccare questo cantone che avevo fuori nel pianerottolo e ragazze niente poi sono tante le cose che voglio ritoccare adesso vediamo questa latta quanto mi dura prima mano faccio vedere com'è il prima allora ragazze questa è la sedia bianca ikea di legno sedia da esterno con una mano di pittura questa è com'era vedete ve lo faccio vedere da vicino questa invece con una mano di pittura ora questa la faccio asciugare e faccio questa qua e poi cambio nel frattempo l'altra si è asciugata e faccio la seconda mano allora ragazze seconda mano qui ora diamo la seconda mano qui sembra che non ci sia molto molta differenza così vedendole dal telefonino ma vi assicuro che c'è